Ciao a tutti e bentornati sul canale, sto per mostrarvi gli acquisti del periodo, alcune cose le ho acquistate online, alcune cose le ho acquistate nei negozi fisici, altre in una bancarella, è un misto, ci sono tante cose carine, state lì e guardate. Allora, cominciamo subito, parto da un acquisto che in realtà è una specie di regalo, sapete che Bottega Verde dà la possibilità ai suoi clienti, ai suoi clienti fedeli di raccogliere punti con la loro stessa raccolta punti, io sono cliente Bottega Verde, utilizzo parecchi prodotti di Bottega Verde e anche quest'anno con la raccolta punti sono riuscita ad ottenere un piccolo regalino con un contributo di soli 1,90€, non perché il prodotto che ho preso costi 1,90€ ma è il contributo per le spese che si dà a Bottega Verde. Io ho scelto questa biscottiera del marchio Snips, ovviamente è di plastica, è un prodotto che va in lavastoviglie ed è bellissimo perché è a forma di biscotto, mi piace tantissimo ed è ermetico, vedete il tappo, è ermetico, ha la possibilità appunto di chiudere la confezione ermeticamente, quindi di conservare perfettamente sigillati, perfettamente conservati i nostri biscotti e quindi non perderanno la loro fragranza. All'interno della confezione quando l'ho acquistato ho trovato questo piccolo Depliant che mostra tutti i prodotti della nuova serie, le nuove collezioni, in realtà li conosco tutti perché seguo Snips su Instagram e comunque compro i prodotti Snips da tanto tempo. Sono prodotti italiani, sono buoni, quindi super conosciuti, famosissimi oramai ovunque. C'è una bancarella qui a Bari, la bancarella di un mercato orionale che si svolge il sabato mattina e il lunedì mattina o perlomeno sono gli ultimi due giorni che io conosco di questo mercato. La bancarella vende prodotti per la casa e soprattutto per la cucina. In ogni periodo dell'anno, quando ci sono le festività, vedi Pasqua, vedi Natale, vedi Carnevale, la proprietaria della bancarella si rifornisce di prodotti casalinghi di tutti i generi, dai più economici, quindi quelli un po' scrausi, ai più costosi, anche di linee di marche professionali. Di solito io compro da lei quasi tutto quello che riesco a reperire, che mi serve. Quest'anno, come l'anno scorso, ho deciso di prendere da lei lo stampo per la colomba. Sono due stampi questi e io li ho pagati, questo è lo stampo da chilo, l'ho pagato 80 centesimi l'uno, quindi 1,60 euro, in realtà poi ho comprato altre cose e me le ha fatto pagare 70 centesimi. Non pensate di doverli comprare necessariamente soltanto nei supermercati, perché sono stata qualche giorno fa all'Ipercopero o Loshan, non ricordo se l'Ipercopero o Loshan, un marchio famoso vende 3 stampi da 500 grammi, quindi più piccolo di questo, a 5 euro. Identico stampo, stesso prodotto, stessa qualità. Stampo in cartone, carta da forno, un po' più doppio della carta da forno naturalmente, stessa identica qualità, non pensiamo che ci sono solo quelli, giriamo un po' per le nostre città, magari anche nei mercati rionali e impariamo a conoscere anche questi venditori. Io la signora la conosco da tempo, quindi mi ci fido, mi fido perfettamente a comprare questi, li compro ogni anno, l'anno scorso l'ho comprato, ho comprato anche quello per lo stampo per fare il Pandoro. Prodotti fidati. Sempre dalla stessa signora, quindi sempre dalla stessa bancarella, oltre a un prodotto di carta, ho acquistato un prodotto Silico Mart. Questa è la linea Marty for Party. Questo è lo stampo per preparare le uova di Pasqua in casa, è in policarbonato, se non ricordo male si chiama questo prodotto, è morbido, quindi è facilmente estraibile l'uovo. Non ho mai provato a farlo, però io faccio solitamente i cioccolatini, con la tecnica del temperaggio del cioccolato, devo provare a fare la stessa cosa con l'uovo di Pasqua. È piccolino, è da circa 15 centimetri, non ho qui un metro per misurarlo, però è quella la dimensione, perché la mia mano, sì, è circa 15 centimetri. Questo l'ho pagato 5 euro, essendo un prodotto Silico Mart, io penso che non sia costato poi così tanto. Era da tempo che lo volevo e quest'anno non mi sono decisa a comprarlo, perché basta, voglio un chilo di cioccolato per Pasqua, non è giusto che tutti mangiano le colombe e io non le posso mangiare, tutti mangiano le uova e io non le posso mangiare. Già il fatto che me lo devo fare dal cioccolato fondente è una scusciatura, io che adoro il cioccolato al latte. Quest'anno cercherò di fare un uovo di cioccolato per me e vedremo che cosa ne viene fuori. Sempre dal mercato, dallo stesso mercato rionale, però da un'altra bancarella, da un'altra persona, ho trovato un prodotto della Tescoma, un prodotto che sto cercando già da quest'estate, ma che l'avevo trovato in realtà verso novembre e non mi è sembrato il caso di acquistarlo a novembre, sinceramente. Quindi mi sono decisa adesso, perché l'estate sta arrivando, per fortuna, e ho comprato questo. È un macchinario per fare i coni in casa. Questo è il macchinario, questo è il poggiaconi e poi c'è anche la vaschetta per fare i cestini. L'ho pagato 15 Euro. Considerate che sono due prodotti, cioè la macchinetta per fare i coni e quella per fare i cestini, due in uno, perché si utilizza sempre più o meno la stessa roba. All'interno della confezione ci sono un po' di accessori che vi farò vedere nel video unboxing che sto preparando. Quindi quest'estate io spero di riuscire a realizzare, oltre che il gelato, trovate il link del gelato fatto in casa qui su nelle schede informative, anche i cestini e i coni. Incrociate le dita per me, perché voglio preparare una ricetta e speriamo che venga bene. Ultimi prodotti acquistati, questa volta online. Abbiamo fatto il giro del mondo, ma ci siamo riusciti. Abbiamo trovato quello che cercavamo. Dico abbiamo perché sono in comproprietà con il mio ragazzo, non posso dire che sono solo mie, perché sono di entrambi. Abbiamo finalmente trovato un prodotto Starbucks che stiamo cercando da tempo. Starbucks al momento in Italia non c'è ancora, speriamo che apra presto, anche se noi, Italia, patria del caffè, eccetera, ma a me piacciono le tazze, mi piacciono i prodotti che vendo. È vero, il caffè non è il massimo della vita, però ditemi voi se una confezione come questa o una confezione come questa non vi fa gola e dalla dimensione di queste scatoline capirete che non sto parlando di classiche mug di Starbucks. ho già tre mug, una natalizia, un'inglese e una tedesca, la natalizia tedesca e ho anche la brocca per bere in giro, quella con la chiusura a vite, ma mi mancano le tazzine. Abbiamo scelto questa tazzina qui, ve le faccio vedere. Una tazzina della dimensione appunto del caffè, però con il simbolo di Starbucks come quella grande, diciamo la tazza classica e questa qui l'abbiamo presa in altri due colori, l'abbiamo presa nera in versione opaca, quella bianca e lucida, la differenza si dovrebbe notare con il faretto, questa è opaca, mentre questa è lucida, dentro invece sono lucide entrambe e poi abbiamo preso anche quella rossa, quella rossa è particolare perché all'interno riporta la data del 2015, perché sono tazzine ideate per la collezione del 2015 o penso che quella rossa sia stata ideata per il 2015. Le abbiamo acquistate tutte online, vengono tutte dagli Stati Uniti, macello, ma ci siamo riusciti e queste sono diciamo la versione classica, ma siccome a noi le cose semplici non piacciono, ma soprattutto a noi piacciono le cose particolari, abbiamo deciso di acquistare altre tre tazze, che servizio da caffè sarebbe se non ci fossero sei tazze almeno? E quindi abbiamo scelto di prendere queste anche, in questa versione, sono nuove, sono sigillate, non sono mai state usate, infatti ci sono ancora le etichette, non sono della dimensione della classica tazzina da caffè che conosciamo in Italia, sono leggermente più grandi perché è il caffè a Starbucks, anche l'espresso è leggermente più lungo e sono in questa versione opaca, con sempre la scritta Starbucks, questa è bianca che la scritta è in bronzo, c'è scritto, vabbè il solito, Seattle, Washington, Starbucks Coffee Company East 1971 e c'è questa versione qui, l'abbiamo presa ovviamente anche in nero, questo, sempre opaco, questa è opaca anche dentro, mentre le altre sono lucide, sempre Seattle eccetera, e nella versione rossa, la versione rossa però è lucida, sono bellissime, io mi sono innamorata di queste tre tazzine non appena le ho viste, non si poteva non prenderle, tutte stelle dovrei averle pagate circa 60 dollari, considerate che sono state acquistate dall'America e quindi che ci sono state le spedizioni in mezzo, la spedizione dall'America è sempre abbastanza costosa, eccole qui, anche queste tre, super soddisfatta, un haul perfetto, un acquisto voluto, cercato, assolutamente studiato, siamo riusciti ad ottenere questo risultato e quindi ad acquistare le nostre tazzine per il caffè, grazie all'aiuto di una persona che si trova in America, non è inutile che faccia il suo nome però grazie, e quindi niente, io ho finito qui, il mio video termina qui, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, se avete qualche domanda, se volete sapere qualcosa, domandate pure, sapete come fare, commentate il video, lasciatemi tanti pollici in su e mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video, i miei canali social sono esattamente quelli che vedete in sovraimpressione, seguitemi anche lì, ciao e al prossimo video!